Una intera scuola inagibile, gli studenti rimasti a casa non per la pandemia ma per un atto vandalico che è nato a quanto pare dall'incendio di alcuni volumi della biblioteca Attigua alla scuola media Dante Alighieri di Verona. Un incendio che ha ben presto intaccato un'intera ala dell'istituto ed è quasi sicuramente di origine dolosa. Un residente aveva segnalato un piccolo incendio per un cestino a fuoco vicino al plesso scolastico ma il rogo si stava sviluppando un po' più in là, nella biblioteca. Infine, solo una stanza della struttura e l'impianto elettrico sono stati compromessi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, sono terminate dopo circa tre ore di lavoro mentre le indagini ora sono affidate alla questura. In mattinata anche il sindaco di Verona, Federico Sbuarina, ha fatto un sopralluogo con due assessori e il comandante della polizia locale ed ha parlato proprio di un atto gravissimo, quasi sicuramente doloso. Si tratta non solo di un atto vandalico, ha detto, qualcuno ha volutamente dato fuoco ad alcuni libri e questo è ancora più preoccupante. Le immagini delle telecamere della zona porteranno presto altre novità. Sono un centinaio gli studenti che frequentano l'istituto per un totale di quasi cinque classi, due delle quali attualmente sono in dad. Già da mercoledì però potrebbero tornare a scuola. Grazie.